La firma era attesa in mattinata ieri, ma è arrivata solamente in serata. Attorno alle 21.30, davanti al notaio, Dimitri Gherasimenko ha ceduto le quote a TIC, tutti insieme Cantù, la società da tempo in prima linea per il salvataggio della squadra Brianzola. La Pallacanestro Cantù ha ufficializzato il passaggio con un comunicato stampa diffuso dopo le 22. Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù annuncia che nella giornata odierna è stata perfezionata l'acquisizione di società sportiva Pianella SRL da parte di tutti insieme Cantù SRL. Dettagli e approfondimenti verranno forniti nelle prossime ore, scriveva ieri sera la società. Finisce così, tra alti e bassi, l'era Gherasimenko, iniziata nel novembre 2015. Ora potrebbe, usare il condizionale d'obbligo, entrare in campo la cordata americana Brianzola, all'interno della quale vi sarebbe anche la Southern Glazers Wine and Spirits, un grande marchio nella distribuzione di vini e alcolici con sede in Florida e Texas e 35.000 dipendenti.